Rotto ogni indugio, anche il primo cittadino qualianese ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative per la poltrona di sindaco. Salvatore Onofaro, che uscì vittorioso dalla tornata elettorale del 2008, ha scelto di scendere in campo nuovamente come candidato del centrodestra. E con l'annuncio di Onofaro anche il Popolo della Libertà ha sciolto ogni riserva, scegliendo di appoggiare il sindaco uscente. Decisione nient'affatto scontata, ricordiamo infatti che in lizza per il simbolo del PDL era anche il compagno di partito di Onofaro, il PDLino Giovanni Palma, attuale presidente del civico consesso, che non avrebbe disdegnato l'appoggio del partito di Berlusconi. Palma sarà invece sostenuto dalla coalizione Camminiamo Insieme, costituita da esponenti di Fratelli d'Italia, Democrazia Popolare, Intesa Popolare per Qualiano, Camminiamo Insieme, cristiani democratici italiani e alcuni membri dei quali ricoprono tuttora cariche presso la Casa Comunale. Terzo competitor, questa volta di centro-sinistra, sarà Ludovico De Luca, che tenterà di raggiungere la poltrona di primo cittadino con il sostegno di diverse forze politiche, Udc, Pd, Italia dei Valori, Api, Noi Sud e le liste civiche facenti riferimento alla rinascita per Qualiano, Comitato Uniti per Qualiano, Casa del Popolo Verdi Ecologisti, Casa del Popolo Qualiano e aderite anche voi. Ad appoggiare l'attuale sindaco Onofaro, oltre al PDL ci saranno anche Fli, Grande Sud, Città Nuove, Mezzogiorno di Fuoco e le liste civiche Qualiano vive e io la difendo, Lista Onofaro, Il Ponte e Qualiano Giovani. Con l'ufficializzazione di Salvatore Onofaro si entra finalmente nel vivo di una campagna elettorale che si annuncia quanto meno interessante. Intanto Onofaro annuncia, abbiamo già pronte le liste, una sarà interamente composta da giovani, ognuna di esse nel rispetto della normativa vigente costerà di un terzo almeno di presenza femminile, una coalizione che sia la proiezione di tutto il panorama socio-culturale della città.